Ferrovie turistiche in tutta Europa esistono e portano milioni di viaggiatori ogni anno su treni storici e riqualificati e rimessi in sicurezza lungo tratte, attrettanto storiche, fuori dalle direttrici principali. In Italia sarebbero numerose le linee turistiche che si potrebbero attivare. Negli anni scorsi, 12 le tratte chiuse in Piemonte, gran parte di queste hanno le giuste caratteristiche per trasformarsi in linee turistiche, un cambiamento che pian piano sta proseguendo. In tutta Europa le ferrovie turistiche portano milioni di viaggiatori su treni storici, treni turistici, ferrovie storiche, la maggior parte sono così, le portano in territori nascosti, non nelle direttrici principali. Noi qui in Piemonte abbiamo 12 ferrovie che nel 2012 sono state chiuse e che alcune di queste si prestano molto bene a essere utilizzate come ferrovie turistiche. Noi avevamo fatto un progetto per riaprire e riabilitare la ferrovia Ceva Ormea e il discorso è molto semplice, quello di convertire quello che non è più un trasporto pubblico locale perché non c'è più il traffico sufficiente per mantenere un servizio ferroviario o giornaliero a livello locale, farlo diventare una possibilità turistica per portare nelle zone depresse viaggiatori che possono arrivare anche dall'estero, anzi la maggior parte arrivano dall'estero. A che punto è il progetto? Il progetto è andato molto avanti grazie anche agli interventi che ha fatto la regione e alcune di queste linee sono state riaperte, sono stati fatti dei treni storici organizzati dalla Fondazione FS, delle ferrovie dello Stato, che hanno dimostrato ampiamente che il discorso di far camminare dei treni storici per creare un'attrattiva di pubblico su questi territori ha avuto successo. Noi proponiamo molto semplicemente di utilizzare i treni che sono di proprietà della regione custoditi al Museo Ferroviario Piemontese per portare avanti queste iniziative. Abbiamo citato la Ceva Ormea, quali le altre linee? Beh, ad esempio in Piemonte è stata riaperta la Nuova Ravarallo, adesso si sta parlando di riaprire la Asti Castagnole Nizza, ce ne sono tante di linee, il concetto è questo, che il treno turistico deve essere un'attrattiva in più allo sviluppo del territorio, ma il territorio deve fare anche la sua parte promuovendo dovutamente le proprie ricchezze, le proprie caratteristiche, che sono sia di cibo, sia di prodotti tipici, sia di monumenti, insomma abbiamo di tutto, bisogna tirarlo fuori, presentarlo, farlo sapere e il treno deve diventare il vettore che collega queste iniziative.